Ben tornato Ti diverti? Bene Ti starai chiedendo perché sono sempre morta Che cosa hai fatto? Come mai sei crudele in queste cassette? E hai fatto qualcosa di crudele? O magari hai solo guardato mentre non ti sei nemmeno reso conto di essere stato Ben tornato O magari sì Io credo che tu sappia benissimo quello che hai fatto Farai l'amore con me adesso? Due cose Prima Io non faccio l'amore Io scopo Forte Clay è tardi Clay C'è la colazione Clay 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 È tardi Cosa c'è? Facciamo sesso tutti insieme stamattina Non sarà sempre facile fare sesso Potrà fare un po' male Anche più di un po' Ma niente paura Faremo tutto tu e io Insieme E non dimenticare Ci sono altre persone Com'è bello farlo a morire da Trieste L'importante è farlo sempre quando hai voglia Tu Tanti auguri Le mie nuove studentesse Salve Sono io Topolino Venite Anna Lei è Anna Jessica Lei è Jessica Ma un adulto sa come funziona l'amicizia Beh devo riconoscere che è insolito assegnare a qualcuno un ufficio Ma voi dovete considerare l'ufficio Un amico in mezzo alla folla Finché non vi sentirete strane Attenso Così restavamo Jessica Jessica e io Ma poi anche Jessica non vende più Le nostre civese si erano strade O così pensavo Io sono Enrico Pasquale Pratico Abbo da Motta San Giovanni Ho 22 anni E sono un ragazzo carino E quelle ragazze che mi piacciono a me mi piacciono biondi I capelli neri Jessica 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 Non puoi farmi una cosa simile Dobbiamo parlare No Chiamami o almeno manda un messaggio Bisogna dire a qualcuno di Justin Non so a porta Senti tieni la bocca chiusa Chiaro Ma lui sa delle cassette Senti te lo dico un'altra volta Tiantala va bene Lasciami in pace Funziona? La cioccolata dico Perché le hai dato una sberla? Non capisco È logico Perché non eravamo amiche Ma eravate amiche? Non eravamo amiche Anna è una che ti dice la verità Non cerca di fregarti Non si può credere a quello che dice Neanche una parola Non ho capito È una bugiarda Era una bugiarda E perché parla? È logico Perché non eravamo amiche Non ci capisco niente Perché Non ne ho idea Oddio Sì è ovvio Hai idea del motivo Per cui ho questi nuovi amici? Sì Salve Sono Baker Baker Mi spiace molto disturbarti Stavo pensando che magari tu Ce lo puoi dire Certo signora Baker Posso venire Sì 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 Eh sì È complicata Sì 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 Sì